Fino al 6 maggio all'Arristo Arte di Via Margutta a Roma si potranno studiare i quadri di Matilde Brandi, esposti in un percorso che racchiude ispirazioni derivanti dalla danza e dalla ricerca materica della superficie. Works of Art è il titolo della mostra organizzata da Tina Vannini e curata da Francesca Barbie Marinetti, inaugurata il primo giorno di primavera con tantissimi ospiti VIP venuti ad omaggiare la nota showgirl, che ha mostrato la capacità di trasportare il ritmo acquisito danzando nelle tele, fermandosi a metà strada tra un astrattismo puro e un bisogno di figurativo. Negli stessi giorni Campo Marzio 70 ha festeggiato il primo anno di vita, Happy Nose Day è il cocktail col quale la prima parfum gallery in Italia, dedicata alla profumeria selettiva, ha festeggiato nella sua sede di Via Vittoria a Roma la sua sfida vinta all'aver portato le migliori scelte del mercato nel cuore della capitale, i migliori nazi del mondo hanno partecipato a questo evento esclusivo, tra i quali Yosh Han, Simon Brook, Lorenzo Danteferro ed Emily Bush.